Passiamo alla vertenza Fiera del Levante, vicino l'accordo tra provincia di Bari e Regione sullo stanziamento dei fondi previsti per il piano di ristrutturazione, ma sulla campionaria pesa lo sciopero a oltranza dei dipendenti previsto a partire da domani. Fulvio Totaro. Il contributo straordinario per la Fiera del Levante potrebbe arrivare a breve. Superate le incomprensioni degli ultimi giorni, Regione e provincia di Bari hanno trovato una nuova intesa per garantire l'equilibrio finanziario dell'ente. Ma l'inizio dello sciopero a oltranza annunciato dai lavoratori potrebbe impedire l'allestimento della campionaria, che aprirà il 13 settembre. I primi espositori, che sono già in arrivo, rischiano di trovare i cancelli chiusi. I 60 dipendenti non hanno ancora ricevuto gli stipendi di luglio, agosto e la quattordicesima e i sindacati hanno deciso di abbandonare i tavoli istituzionali, accusando i soci della Fiera di non aver ancora messo in pratica il piano di ristrutturazione dell'ente. La Regione a luglio aveva autorizzato il pagamento del 60% dei 4,5 milioni di euro stanziati, ma la liquidazione era stata bloccata in attesa della conferma da parte della provincia di Bari dell'impegno a versare un milione e mezzo di euro. Fondi non destinati agli stipendi, ma che libererebbero altre risorse con cui pagare immediatamente i dipendenti, spiega il presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi. Il governatore Nichivendola e il presidente della provincia Francesco Schittulli si incontreranno martedì mattina. Intanto chiedono ai sindacati di sospendere l'agitazione. E del nodo Fiera del Levante parliamo con Pino Gesmundo, segretario generale della CGL di Bari. Benvenuto. Buonasera. Allora, il presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dice useremo la liquidità disponibile subito per pagare gli stipendi. Vi basta per ritirare lo sciopero? Intanto io vorrei che fosse chiaro che è stato ricreato uno sciopero dopo circa un anno di continui tentamenti rispetto intanto anche alle prospettive della Fiera. Da troppo tempo sentiamo soltanto discussioni che fanno intendere che il problema della Fiera sia soltanto il personale e invece riscontriamo che ci sono 20 milioni di euro di debiti che la Fiera deve colmare. Quindi noi abbiamo bisogno di capire come stanno le cose, sicuramente se gli stipendi saranno erogati per tempo domani mattina noi domani in aspettina stessa revocheremo lo sciopero, ma abbiamo bisogno di certezze che oggi non abbiamo. Ecco, da domani mattina quando arriveranno gli espositori cosa troveranno? Domani mattina troveranno gli espositori, sicuramente i lavoratori in sciopero, se prima del loro arrivo qualcuno non c'è dato garanzia rispetto all'imminente, all'immediata erogazione degli stipendi. Non c'è il rischio che con la Fiera alle porte ci sia un danno di immagine, anche un danno economico per la campionaria che in qualche modo possa essere anche controproducente per gli stessi dipendenti? Io vorrei fosse chiaro che poi alla fine i problemi non è che possono essere risolti soltanto dai lavoratori e che le responsabilità debbano essere scaricarsi soltanto sui lavoratori. Stiamo parlando di lavoratori che non percepiscono lo stipendio da oltre tre mesi, hanno tre mensilità in arretrato, non hanno una prospettiva di lavoro davanti a sé perché si parla di privatizzazione, di chiusura, di rivisitazione della mission della Fiera, cioè un'incertezza rispetto alle loro prospettive di vita. Io penso che il minimo che uno possa fare è provare a chiedere attraverso un'azione di forza un po' di chiarezza. Quindi i soci continuano a dire che gli impegni saranno presi, cosa le aspettate? E' un anno che i soci ci dicono che gli impegni saranno presi, è un anno che proviamo a discutere, ad avere certezza rispetto a quello che sarà della Fiera, ma intanto noi abbiamo un problema imminente. Famiglie che sono quasi sull'astrico perché hanno tre mesi di mensilità, in molti dei quali sono famiglie monoreddito. Grazie, grazie a Pino Gesmundo, secretario della CGL Bari. Grazie a Pino Gesmundo.